L'articolo è una vera e propria galleria degli orrori, con l'elenco di tutte le torture possibili immaginabili, a partire da storie di prigionieri sepolti vivi. E per le poche decine di persone che ormai un articolo del genere lo leggono fino in fondo, una specie di profezia. Mentre diversi casi sono stati verificati da fonti indipendenti, si legge, altri si sono rivelati esagerati o falsi, tanto da accostare il posto alla commissaria per i diritti umani ucraina Lyudmila Denisova, cioè quella che si inventava stupri seriali di neonati, che ovviamente la stampa riportava sempre e sistematicamente come vere e proprie notizie verificate. Ma evidentemente l'esperienza è una cattiva maestra. E così è bastato aspettare il pomeriggio che ecco che arriva la figura di merda colossale. A sputtanare questa gigantesca pagliacciata ci ha pensato il tedesco Bild, gli unici che si sono recati sul posto e hanno cercato di capirci qualcosa. Gli unici che hanno scovato lui, il signor Sergei, l'unico dentista del villaggio. In 30 anni ho rimosso decine di migliaia di denti, ha raccontato, e quando sono arrivati i russi me li hanno rubati e alcuni vicini mi hanno detto che i russi li usavano per spaventare i prigionieri, ha dichiarato. La cosa buffa è che, come ha spiegato lo stesso Sergei, in realtà le corone non erano manco d'oro, ma di acciaio ricoperte. Spararle più grosse possibili da che mondo è mondo non è una svista, è una tattica comunicativa precisa. Te tiri la fake news più grossa possibile nel mucchio, i più spregiudicati alla Bruno Vespa ci fanno i titoloni, poi arriva la truppa di quelli che si danno un po' un tono di credibilità e ti dicono ma no, ma queste sono esagerazioni, però, e ti rivendono altre puttanate, giusto appena appena meno evidenti, come un resoconto equilibrato, che è un po' quello che è successo con l'altro epic fade della propaganda bellicista mainstream di ieri, il caso Dughina. la storia